Uno sciame sismico continua ad interessare la Sicilia orientale, dove alle 16.35 di ieri un terremoto di magnitudo 4.2 con epicentro tra le province di Siracusa e Ragusa è stato avvertito fino a Catania. Probabilmente ancora la sequenza potrà continuare, sicuramente non sappiamo con che entità i prossimi terremoti verranno registrati. Ieri grande paura per la popolazione, molti cittadini soprattutto nel Ragusano sono scesi in strada, ma dalle verifiche effettuate dalla protezione civile non sono stati segnalati danni a persone o cose. La domanda è sempre la stessa, i terremoti si possono prevedere? Ormai è detto e ridetto più volte che i terremoti purtroppo non sono prevedibili. Nell'area dell'Iblè nel passato la sismicità storica ce la insegna, è stata sede di terremoti di grossa energia. Pertanto ciascuno di noi dovrebbe essere sempre pronto ad andare incontro a un fenomeno del genere.